Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Metro Exodus. Oggi il gioco si fa duro, dovremo non solo affrontare i banditi, ma anche l'orso di Putin che ci sbarerà la strada e scopriremo se i pugni di Lon sono più potenti dei proiettili. E ovviamente incontriamo un pazzo che vive con due cadaveri. Tutto normale, tranquilli? Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Siamo ancora sulle tracce del nostro compagno Alyosha, che era stato catturato dai pirati e poi liberato a sua volta da Olga, la donna che ci ha salvato, quando stavamo per affogare nel fiume. Allora, fino adesso non ho potuto uccidere nessuno, ma dato che abbiamo raggiunto un accampamento dei banditi, finalmente posso dare libero sfogo alla mia vena omicida! Ma soprattutto dobbiamo recuperare tutto l'equipaggiamento che abbiamo perso. Sì, è vero, io ho ritrovato lo zaino. Purtroppo per me le armi non c'erano e se ho capito bene dovrei anche aver perso tutti i componenti e le parti chimiche che avevo accumulato negli scorsi episodi. Ah, se premo N non ho neanche più il visore notturno. Ah, porco cane! Uh, aspetta che la pistola del signore potrei riuscire a convertirla in una pistola silenziata, sperando effettivamente di avere tutte le parti. Vediamo un po' allora se non mi individuano. Dovrei poter modificare direttamente le armi. Ok, ce la facciamo. Abbiamo il calcio pesante che non mi pare avessimo negli scorsi episodi. La canna silenziata, ottimo. E vediamo anche di mettere il mirino reflex. Non metto quello notturno perché non ne abbiamo bisogno. E abbiamo anche il tamburo da otto colpi. Ok, ce l'abbiamo di nuovo. Perfetto. Signore, che fa lei? Sbircia? Non si sbircia in maleducazione. Sarebbe meglio fosse se utilizzassi le frecce in modo tale da non sprecare colpi. Sono anche trovando nuove parti per la nostra balestra. Perfetto. Allora, facciamo fuori il resto dei banditi. Cercando ovviamente di non farci scoprire. Il problema è che ho le armi sporche e tenderanno ad incepparsi. E il sole sta sorgendo. Vabbè, che ore sono? Come il sole sta sorgendo? Sono le 4 del mattino. Porco cane, fra pochi secondi qualunque bandito della zona mi potrà individuare. Non potrà più contare sulla notte. Peraltro, il nostro obiettivo per adesso è di raggiungere quella chiesa lassù da quello che ho capito. Il che vuol dire che siamo praticamente in parte alla zona che dovevamo raggiungere. Non ero obbligato a visitare l'accampamento dei banditi. Ma mi pare effettivamente cosa buona e giusta, vista la scherzità delle nostre scorte. Oh, 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 non mi ero accorto che avevo un amico in parte. Aspetta, state boni. E quanto... E, buono. Signore, non punti la torcia che poi le sparo. Ui, erano in due. Perfetto, secondo. Perfetto. Presi entrambi. Porco cane. Mi stanno raggiungendo pian pianino. Aia. Porca boia. Perfetto, perfetto. No, vabbè, sta balestra è fantastica. Nonostante sia sporca. Ok. Eeeh, quanta gente. Eh, curati ciccio. Ok, li ho girati, non sanno dove mi trovo. Scherzone. Ti insegno io a depredare i cadaveri dei compagni. Aspetta. Vieni a giocare con me. Statti buono. Ok. Dove vai? Che fai? Fuggi? Eeeh, non fuggi più adesso. Ok. Dove? Ti arrendi? Guarda, mi piace quando la gente si arrende e gli regalo sempre un cragnottone. Ah, vabbè, cari anche vecchio, eh. Porca lì quelli per forca. Ok. Tutto è bene, quel che finisce è bene. Ora vedo di rapinare i signori, come è giusto, voglio dire. A loro stessi sono banditi, scusa. Peraltro avevamo anche un tizio da liberare qua dentro. Signore, buongiorno. Ecco qua. Non sei uno di loro. Capisco. Così ho compiuto la mia buona azione quotidiana. Grazie per averci salvati, straniero. Ah, perché il suo collega qua è vivo, mi pare un po' morto, eh. Grazie. Perfetto, allora ho preso tutto quello che c'era all'interno dell'accampamento e ho trovato quello che potrebbe essere un fucile. Lo dobbiamo ovviamente modificare. Per adesso è un fucile a colpo singolo, meglio che nulla. Però come potete vedere ci sono qui la impugnatura pesante, non male, canna curta e silenziatore, canne doppie e quattro canne. È sempre meglio avere un sacco di canne, santo cielo. Gli possiamo mettere un mirino reflex. Oh, il mirino reflex chiuso. Ok, non è bello come il fucile che avevamo l'altra volta, ma è meglio che nulla. No, ma dimmi te, là sotto c'è la grotta da cui sono passato lo scorso episodio e che mi ha permesso di raggiungere l'accampamento dei banditi. Se noi fossimo andati dritti invece che entrare nella grotta, saremmo arrivati direttamente al cimitero. Ma no, vabbè, non importa. Abbiamo, come ho detto, recuperato. Ma popo tante risorse. Oh, oh. Questo è un punto di non ritorno. Oh, no. Oh, qua stiamo per affrontare l'orso di Putin. Ve lo dico io. Allora, vediamo di palpeggiare tutti i cadaveri del luogo. Peraltro, nei commenti mi avete detto che in teoria l'orso io non lo posso sconfiggere da quello che ho capito. Oh, gli uccelli stanno scappando. Ok, l'orso è in zona. Il mio corpo è pronto, non è vero mai nella vita. Ok, dobbiamo arrivare in cima alla struttura. Vediamo un po' se possiamo passare per questa corda. Vai, Artyom. Scala tutto. Oh, oh. Eh, guardalo, guarda il frizzettone. Oh, no. Oh, no, 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 no. Signor orso di Putin, che piacere rivederla. Eh, vabbè. Aiuto. Artyom, c'era una corda, c'era una scaletta. C'era un porca di quelli per porca. Corri, Artyom. Corri via. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Mi serve la Molotov. Prendi la Molotov, prendi la Molotov. A quanto pare era l'unica cosa che gli faceva mappo tanto male. Oh, no. Ah, non mi segue? Ok, ora mi segue. Vabbè, quello non è un orso. Quello è King Kong. Corri, corri, Artyom. Ok, non mi metto neanche a sparaglio. Altro è follia. Oh, oh, da lì non posso passare. Sì, ok. Libera la scaletta. Libera la scaletta veloce. Ok, corri su. Corri su, non ti gira. Artyom, porco cane. C'è una montagna dietro di carne e muscoli e via dicendo. E anche Fauci. Ah, ah, ah. Ok. Sono mica scemo che io affronto qualcosa. Pepepe, non ne ho valido motivo sotto cielo. Ok. Oh, nel frattempo è l'alba di un nuovo bellissimo giorno. Ehi, insomma, c'è un orso incacchiato con la vita. Ti prego. Niente. Oh mio Dio, questo è un banco da lavoro. Sì, finalmente. Banco da lavoro. Mi sei mancato tant'errimo. Non ci credo mai nella vita. Oh, perfetto. Ora mi posso ricraftare. Beh, le munizioni me le ha mantenute. Non me le ha perse. Mi consolo, effettivamente. Eventualmente possiamo farci anche le frecce esplosive. Ah, non penso di averne bisogno. Cato mai qualche coltello da lancio in più se dovessimo fare una parte stealth. Le molotov mi richiedono decisamente troppi componenti chimici. Ma soprattutto possiamo rimontare. E eventualmente il nostro equipaggiamento. Io ho perso l'amplificatore della visione notturna, visto che non ho più il visore notturno. Quindi montiamo la torcia extra luminosa che è meglio che nulla. Il problema è che finché non torno all'aurora non posso scambiare le armi, ma devo continuare con quelle che ho trovato fino adesso. Vabbè, meglio che nulla fammi dare una pulita a sta povera balestra. Oh, è tornata praticamente nuova. Aspetta che ho trovato un nuovo calcio pesante che ne aumenta consideravolmente la stabilità. Parliamone. Perfetto, sembra che l'orso di Putin si sia arreso e se ne sia andato. Il problema è che adesso che è sorto il sole, qualunque nemico ci potrebbe individuare. E ragazzuoli, guardate la balestra una volta che è stata ripulita. Quanto non ti venta bellerrima. Ok, bando alle ciance. Purtroppo non c'è un letto su cui possiamo dormire. Quindi vediamo di procedere e di trovare Aliosha. Dovremmo essere arrivati alla diga. Salve, parliamone. Signora, un bel paio di stizze come le sue, non me le dimentico mai. Buongiorno. Salve. Vuole una limonata? Si chiama Orso di Putin, porco cane. Chiamatelo col suo nome, se no si arrabbia. Ah, questa era la casa del loro maestro. Aliosha è già alla diga. Oh, perfetto, manca poco. Si fidi che mio suocero mi aspetta, lo picchio male. Sì, ho sentito. Oh, lo vedo laggiù. Ok, non ho ucciso nessuno fino adesso. Cioè, il sole alto sarà abbastanza dura. Ok. Signorina, mi sta spingendo verso il bordo. Voi due avete fatto cosacce, mi sa, eh. Ah, ok, quindi avevo ragione. Questa è la casa del maestro, era qui che viveva effettivamente. C'è un punto per dormire fino al calare delle tenebre. Dannazione, non posso muovermi in queste condizioni. Non ho trovato neanche un letto in cui riposare. Quindi vediamo di cambiare il mirino della nostra balestra. E mettiamo semplicemente un mirino reflex. Perché se no, ma cieco di brutto. Allora, di sicuro dobbiamo arrivare a quella torre o cittadella lassù. E poi dovremo riuscire a raggiungere la diga. Allora, la signorina Olga mi ha detto che il maestro è stata praticamente l'unica persona che in passato ha riunito sia i pionieri che i pirati. In modo tale che collaborassero per cercare di sopravvivere assieme. Solo che i pionieri hanno deciso per una politica più isolazionista. Quindi se ne stavano per conto proprio e tanti saluti. Mentre invece i pirati hanno deciso per una politica più aggressiva. Pertanto chiunque li raggiungesse, loro lo attaccavano senza un minimo di rispetto. Ok, allora cerchiamo quindi di raggiungere quella cavolo di barca senza farci individuare dai pirati della zona. Ci fosse un modo per fargli capire che voglio solo passare... Oh, oh, eccola giù il loro accampamento. Dannazione, dai, gioco! Possibile che io non possa dormire in Santa Pace in un angolino? Ok, sono praticamente arrivato in parte dall'accampamento e ovviamente è pieno zeppo di banditi a fare la guardia. Come faccio io a passare in pieno giorno? Non lo so nemmeno io, dovrò prendere a pugni praticamente tutti, mentre loro hanno armi da fuoco! Yei, pugni versus proiettili, chi potrebbe mai vincere? Aspetta, aspetta, questa gente vive in una palude. Oh no, il che vuol dire che posso passare solamente lungo i ponti che hanno costruito loro stessi. Allora, vediamo se riusciamo ad aggirarli. Se siamo fortuna... Eh, non sono fortunato, guardalo lì, porco cane, stai basso, Ardium. Oh, porco cane, buongiorno signore, non hai visto niente, non hai visto niente, fatti cavoli tuoi! Ok, ok, perfetto, mi sono preso uno spavento assurdo, signore, non mi si giri proprio adesso. Vedo niente, ma tiro cragnotoni e qualcuno prima o poi piglio. Perfetto, ovviamente loro hanno armi, ma va, hanno visto uno dei cadaveri. Porco cane, beh, siamo in pieno sole. Ok, perfetto, iniziamo a prendere cragnotoni tutti, cragnotoni tutti e ci sono problemi, eh! C'è il 3x2 sui cragnotoni! Ok, signore, non mi finisco in acqua che poi... Aia! Magari mi conta come kill, mi sono bloccato. Gioco, gioco, mi hai bloccato in un punto brutto più brutto. Corri Ardium! Ho trovato una scaletta, vediamo se riesco a raggiungerli e a prendere qualcuno a pugni. Non mi hanno visto, non mi hanno visto, non mi hanno visto, stai buono! Incredible! Aspetta, ed è di colpo, di colpo è sentito la puzza delle mie scelle. In effetti non mi sono dato una lavata, perché la cosa della palude non è mai... Oioioioioi, ne ha! Tutto bene, ma tutto bene, perfetto, volevamo se bene. Ok, me la rischio, me la rischio, Corri Ardium! Corri Ardium, buongiorno signore! Porco cane, c'è tanta gente! Porco cane! Ardium! E non star 20 minuti però, porca di quelli per porca! Nessuno può fermare la furia dei miei pugni! Guarda che ti ho visto, ti stai compenetrando male! Ehi, ehi, dove sei andato? Ehi, 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 porca di quelli per porca! Se io compenetrarti e poi fuggire, senza un minimo di rispetto! Salve signore, salve signore, salve signore! Mi ha piacere fare la sua conoscenza, grazie di avermi dato le spalle! Non potevo prendermi il chiurlo, ma ho dei dettagli! Quanti sono ancora, porco cane? E' qua, sono qua, sono qua, l'intruso! Potevamo risolverla pacificamente, volevo solo una barchetta per passare dall'altra parte, ma no! Dobbiamo ovviamente prenderci a cragnotoni e spararci addosso! Ovvio! Guardalo! Sì, sono qua! Sono qua! Oii, oii, oii! Perché non mi dà mai il coso dei... per dare i pugni direttamente? Perfetto, hanno perso le mie tracce, l'importante è non far rumore, altrimenti ci facciamo individuare, ok? Niente rumore! Ok, a posto, vediamo di procedere. Ok, il mio radar rileva molti contatti fuori da quella porta a sinistra, quindi... Potere del pugno del telone! Artyom corri di più, porco cane! Ma perché mi si blocca dovunque sto ragazzo? Ok, a posto, a posto! Ancora pugni rotanti, calci rotanti, tutto che ruota qua, anche le mie balle ruotano. Dove siete? Dove siete? Io io! Ecco, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto e tu mi hai sentito di certo! Ragazzi, vi volete arrendere, per favore? I miei pugni hanno sconfitto i vostri proiettili contro ogni aspettativa. Perfetto, missione compiuta! Tutti i banditi sono stati messi a nanna, poverini, avevamo lavorato tutta la notte, era giusto che facessero una pausa. Ma soprattutto, ho trovato la barchetta, mi sono accorto che però dobbiamo aprire quella porta laggiù. Altrimenti, non riusciremo a passare. Vi giuro, faccio fatica a credere che l'abbiamo risolta pacificamente. A pugni? Ma pacificamente, voglio dire. Ok, bando alle ciance, vediamo quindi di proseguire la nostra avventura. Allora, spero di non incontrare altri pirati, perché porco cane, chiamarli pirati è un attimino ambiguo, ti viene voglio di sparargli? Se non mi aveste avvisato nei commenti avrei fatto una strage, rischiando ovviamente di far morire il povero Alyosha, che io spero che sia salvo. Ho fatto decisamente del mio meglio, ma soprattutto abbiamo anche liberato della gente catturata, abbiamo liberato il bandito e via dicendo. E dove boia sto andando a finire pure io. Oh no, da qui in poi non possiamo proseguire. Ah no, ci sono di nuovo i gamberetti che mi attaccano. Allora, teniamo fuori le armi pesanti, il fucile soprattutto, e vediamo di non farci cogliere impreparati. C'è anche un po' di radioattività da questa parte. Perfetto, utilizzando questa corda in teoria dovrei raggiungere la parte superiore di questa zona industriale. Da qui presumo posso attaccare dall'alto eventuali nemici. Poi, i pocani sono tutti morti. Mi sa che i banditi non venivano da queste parti. Vediamo un po'. Uh, un nuovo potenziamento per la balestra. Sì, probabilmente ci permetterà di fare ancora più danni. Un bel po' di dardi, ottimo. E possiamo anche calare questa scaletta in caso di necessità. Era una zona segreta, non lo sapevo. In effetti sì, lo possiamo rendere molto più potente. Farà più danni, a discapito di un po' di precisione. Mi va benissimo, perfetto. Oh oh, l'aria non è respirabile. Artyom, vai di maschera. Il tempo è anche peggiorato di brutto all'improvviso. Ok, allora, la torcia funziona? Pare di sì. Buongiorno. Oh no. Oh, ma che brutta zona, ragazzi. Speriamo davvero che non ci attacchi nessuno. Se ho sentito bene, ci sono quei cavolo di granchi che fanno un bel po' di rumore. Piotrò secondo me, ci sono anche le piante che ti attaccano. Guardale, sono letteralmente dovunque. Peraltro come una pianta possa riconoscere la tua presenza e attaccarti. È un mistero, ma vabbè, dettagli. Peraltro devo anche darmi una mossa. Dato che sto utilizzando i nostri filtri. Ok. Ok, relativamente tranquillo finché sono nemici di bassa categoria. Oh no, appena detto. Va tutto bene. Questi hanno la protezione esterna. Mi sa che sono vulnerabili. Solo se riprendiamo sul muso. Ok, per adesso fuggono. Teniamoli a debita distanza da noi. Allora, c'è un pannello elettrico che possiamo attivare in questo caso. Oh, oh. Non c'è corrente. Dannazione, non c'è corrente. Wow, ciao piccola, docile creatura. E lei chi è? Mi dispiace, non lo sapevo. Potrebbe essere un bel problemone. Quindi devo attaccarli in maniera silenziosa con arco e frecce. Ma mi prendi in giro. Signore, mi butto una scaletta. Ah, guardali che schifosi. Aspetta, aspetta, aspetta. Tira fuori una molotov. Tira fuori una molotov. Che faccio il granchio al vapore. Ti insegno io, porca di quelli per porca. Ma che buon odore di granchio, santo cielo. Avevo un po' fame quest'oggi. Oh, non si arrendono. Oh, non si arrendono i fetentoni. Bani. Tote buoni. Allontanatevi che c'è l'ammiraglio che poi mi urla dietro. Veloce, arti, om ricarica. Guardali. Aspetta, aspetta. Io ho anche la pistola silenziata. E questa la dovreste sentire decisamente molto di più delle frecce. Ma è un'arma silenziata. Non rompa le scatole. Non posso sentire un'arma silenziata. E che cocchio. Che schifo. Allora, devo trovare un generatore per far ripartire la corrente. Corri e tanti saluti. Casomai tiro una molotov a qualunque docile creatura mi insegua. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse qua dentro c'è qualcosa. Qui l'ha un altro potenziamento. Bello lui. Sembra un bel potenziamento per la balestra. Perfetto, abbiamo fatto bene ad arrivare qua. Altri dardi per la balestra. Ma nessun generatore. Ehi là, boni. State boni, porca di quelle iperporca. E quanto siete resistenti. Ehi là. Ehi, certo. Artyom, ricarichiamo l'arma più velocemente. Dimmi che ho ancora molotov. Dimmi che ho ancora molotov. Oh, quest'oggi mi faccio un cocktail di granchi davvero meraviglioso. Perfetto. Porco cane, anche i serpenti. Anche i cavoli serpenti. Ho trovato il generatore. Ho trovato il generatore. Artyom, attivalo velocemente. Anche perché sto finendo i filtri dell'aria. Ovviamente non ci sarà carburante. 100 euro. No, c'è carburante. Perfetto. Ok, ritorniamo al quadro elettrico. Attivalo velocemente. E credo di avere un problema. Credo di aver finito i filtri dell'ossigeno. Ok, qua dovremmo essere temporaneamente sicuro. Sta ripartendo la corrente. Vediamo un po'. Sì, ho decisamente finito i filtri. Porco cane. Ok, adesso abbiamo quattro minuti di ossigeno. Diamoci una mossa. Non mi ero reso conto. Avevo appena messo il filtro. Mi diceva ancora un minuto. Come ho appena messo il filtro da tre minuti. Perfetto. Ho potuto così riattivare l'ascensore che mi ha portato sul tetto della struttura. Ho la vaga impressione che stiamo per raggiungere la casa dell'ammiraglio. Ammiraglio? Buongiorno, salve. Testimoni di Lone. Potevamo anche bussare, eh? Mi perdoni, signore. Sono una persona molto malducata. Oh! Non avevo visto che aveva degli ospiti morti male. E li avrei già sparato se ero un bandito. Anche se non si può mai dire con i banditi. Ogni giorno sono diversi. Ahà. Ho ragione o no, segna. Eh, credo siano molto morti. Il nostro ammiraglio ha sempre ragione. Oh, perfetto. Dalle voci ai morti. È andato completamente fuori di testa. Hai già leccato il culo a sufficienza. Beh, se tu sei qui, significa che tutti quei vermi ramolliti e quei pirati falliti sono morti. Ho sbaglio. No, no, non ho ucciso nessuno. Stia buono. Tanto sappiamo tutti che ho ragione. Finalmente ce ne siamo liberati. Eh, si fidi, signore. Signore Miraglio, sa, forse dovremmo offrirgli la nostra ospitalità. Anche se è un bandito, è pur sempre un ospite. Ecco, bravo Miraglio, ascolti i suoi colleghi qua a Santo Cielo. Ottima idea. Accomodati, bandito. Prendiamoci il tè. Eh, ok. Ho detto che non hai mai trovato niente di simile. Eh, il tè è una cosa incredibile, un'esperienza unica. Mai una volta che mi aiutino questi inutili idioti, ma almeno non mangiano molto, vero ragazzi? Ah, che simpatico. Puzzano da morire però, porca rigori, per porca. Oh, sta gente piace tanto il tè, peraltro, eh. Ma che schifo! Davvero? Me lo faccio provare? Ma non poteva dirmelo prima, è acqua radioattiva! Scusi, c'è l'uccello che le parla. È l'unica essere che le sta parlando, ma vabbè, dettaglio, lo ignora. Hai visto come sono felici i ragazzi? Eh, guarda. Questa spesso che venga qui qualcuno con cui chiacchierare. Quei codardi se ne sono andati tutti. Ma i Merlin non parlano così mobi dettagli. E se il Roman si ha dimenticato di noi. Eppure era qui con noi quando abbiamo costruito la base. Tutti si sono dimenticati che li difendiamo mettendo a rischio la nostra vita. Eh, signore, credo che lei parli di una guerra di qualche decennio fa. Scusi, sono molto felici. Gridavano, uccideremo tutti i banditi! I pionieri sono dei codardi! Ahah, ahah. Il maestro si sbaglia! È meglio si è attacchiato! Oh, le ragazze dicono che il maestro ha detto che dobbiamo andarcene! Oh, oh, oh! Ok, bravo, lei è rimasta indietro ad attaccare gli acquatici. Bravo, signore. Non è divertente quanto appendere i banditi ai pavi. I banditi si possono derubare dopo che li hai uccisi, mentre i mutanti non hanno niente di interessante da prezzo. Signore, ci può fare un cocktail di gamberi davvero meraviglioso? E io adoro i gamberi. Sono solo dei patetici. Ma... Ma perché se la prende con il nuovo uccello? È un po' tardi per iniziare ad ascoltare il maestro. Eh, sì, è morto, santo cielo. Ok, guardi, io purtroppo devo andare. Ho lasciato il gatto sulla pentola nel fuoco dentro la lavatrice. Porti pazienza. È stato un piacere conoscerla. Ragazzi, siete delle persone davvero simpatiche. Ok, dove è l'uscita da sto posto? Posso tagliare la corda nel vero senso della parola? Oh, e mi scende la scaletta. Pratico! Beh, lui la scaletta di certo non la sale, voglio dire. Ci siamo capiti su una sedia a rotelle. Signore, l'unica cosa che troverà qua sono banditi e mostri che ti attaccano. Di certo non troveremo la medicina. Siamo effettivamente nel posto, sbagliato. Ok, perfetto. Il signore sta ancora parlando, peraltro, eh. E là dentro che ancora che urla, non so a chi, ma vabbè, dettagli. Non mi faccio più domande. Ok, non dovrebbe mancare effettivamente molto per arrivare alla diga. Uh, io quel carro armato lo vorrei. Peccato che il punto è crollato. Beh, non ci resta che andare da questa parte. Se percorriamo la strada dovremmo riuscire a raggiungere finalmente la diga. Oh, che è stato sto casino? Oh no. Oh no, il signor orso di Putin è tornato. Perché vai nella mia direzione? Ma porca di quelli per porca. Ah, mi piace che c'è il cartello. Fai attenzione agli orsi. Di Putin, ovviamente. Oh, ma che brutto posticino. Oh no. Siete tornati. Tirami fuori l'accendino. Artyom, tira fuori l'accendino. Porco cane, sono ritornati tutti. Signore, come va? Tutto bene? E non direi. Ah, vediamo di essere più veloci possibili. Oh no, 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 no. Andateve ne carture immonde. Ah, ah, dove vado? Dove vado? Artyom, corri di qua, corri di qua. Non mi fermo nemmeno. Chiudi la porta. No, no. Stai lontano. Stai lontano. Ok, fin qua tutto bene. Ah, la maschera. Tira fuori la maschera. Tira fuori la maschera da nazione. C'è la torcia che fa le bizze? Perché, oh, la torcia si è spenta. La torcia si è spenta. È anche pieno zeppo di radiazioni. Ah, che faccio? Che faccio? Che faccio? Accendi questo. Accendi questo. Troppe radiazioni. Troppe radiazioni. Non vedo nemmeno dove dovremmo andare. Ah, che succede? Non mi si accende la torcia. No. No, aspetta, aspetta, aspetta. Accendi questo. Accendi questo. Ok, guardate. Posso spararvi, eh? Non è che mi faccio troppi problemi. Credo che l'unica soluzione sia accendere tutte le torce che incontriamo lungo il percorso. Vai, accendi l'Arteon. Bravo. Ah, che schifo. Sono tornato su Alien di colpo. Corri, 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 corri. Accendi questa, accendi questa, accendi questa. E ovviamente anche i ragni sullo schermo. Aspetta, raccogliamo anche i cosi. Lo so che sono giù di filtri. Porta pazienza, non mi metterà ansia. Porta di quelli per porca. Ok, oddio. Ah, no. Apriti porta. Non si apre ovviamente la porta. Porca di quelli per porta. Niente da fare. Passiamo per il condotto. Cosa potrebbe mai accadere? Gioco, te lo giuro. Se mi fai un jumpscare qua fuori ti disinstallo a ceffoni. Ok. Sembra tutto tranquillo. Ma lo sarà ancora per pochi secondi. No. No. Andatevene. Andatevene. Ah, ah, ah. Mi serve della luce. Mi serve della luce, della luce. Vabbè, la torcia è partita. Scemo. La torcia è ripartita. Perfetto. Occhio. Occhio che provano ad attaccarti alle spalle, i fetentoni. Wei, 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 wei. Boni. 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 Vai qua dentro. Vai qua dentro. Petta, accendi la luce. Ok. Qua dovremmo essere sicuro. C'è un generatore. Perfetto. Ti prego dimmi che c'è carburante. Mi sto cacando che non ci avete idea. Ok. È partito. No. Ci è spento. Dannazione. L'indicatore a zero. Ok. Dobbiamo trovare un bel tanicozzo di carburante. È l'unico modo che abbiamo. Oh. Ok. Non devo andare neanche troppo distante. 100 euro che il tanicozzo di carburante è vuoto. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ste sfighe non mi capitano popo mai. Ok. Per mia fortuna ho anche potenziato la torcia. Il che vuol dire che dovremmo farne molti più danni. Ah. Beh. Perché quando mi mordete? La torcia. C'è la torcia. Vi dovrebbe uccidere porco cane. Ok. Vedo che adesso ragioniamo. Perfetto. È una coltellata amichevole. Ho la zoccile creatura. Porca di quelli per porca. Corri Arteon. Corri Arteon. Dobbiamo trovare il tanicozzo. Ah ah ah. Mi hanno sgattarrato in faccia. Che schifo. Oh. Questa porta è chiusa. Ovviamente è fissato che non c'è corrente. Presumo che non si aprirà. Io provo a tirar la leva ma... No. Niente. Non funziona proprio. Scudi signore. Avrebbe della benzina? No. Ha detto di no. Ah. Eccola qua. Perfetto. L'abbiamo trovata. Ok. Vedi che ce ne andiamo da sto cavolo di posto. Sembrano molto più resistenti di quelli che abbiamo incontrato quando siamo arrivati al Mar Caspio. Guarda lì. Guarda lì che non mi lascia lottare 5 secondi. Ragazzuoli. Io direi che questo è un buon momento per interrompere questa puntata. Siamo penso praticamente alla fine delle nostre avventure. Qua nella tundra. Nei commenti fate vedere cosa ne pensate. Lasciate un bel video della serie. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.